Yannick Sinner e Maria Braccini, dopo tre anni di relazione e i vari gossip sulla loro presunta rottura, hanno ufficializzato nuovamente il loro legame durante un evento a San Siro. In passato, la loro relazione aveva sofferto a causa dell'eccessiva esposizione di Maria sui social, in contrasto con la riservatezza di Yannick. Maria ha da allora cambiato approccio, rendendo il suo profilo Instagram privato e pubblicando contenuti più intimi. Nonostante segua Yannick nei suoi tour, evita di condividere immagini che li associano direttamente. Recentemente, ha postato foto degli ATP di Torino su Instagram, scatenando dibattiti tra i suoi follower riguardo alla natura della loro relazione e al suo comportamento sui social media. E tu cosa ne pensi della relazione che lega Yannick e Maria? Scrivilo nei commenti!